Presidente, siamo in chiusura, le domande sono tante, davvero tante, però noi tranquillizziamo gli spettatori perché lei risponderà a tutti quanti via web. Un'ultima soltanto, in un minuto, Lello Ioro vuol sapere cosa accadrà nella Coppa America una volta che la competizione sarà svolta. Cosa resterà a Bagnoli, cosa resterà a Napoli? Intanto un grande evento che ci auguriamo possa portare non solo visibilità e immagine alla città di Napoli e alla regione, quindi un territorio straordinario come quello di Bagnoli, un grande rilancio dell'aria, un grande evento sportivo e ci auguriamo una grandissima partecipazione. Questo evento sportivo porta ricchezza, costa meno di quanto porta, quindi ha un effetto attivo, non passivo e quindi questo è già un aspetto positivo. In più si rilancia un'aria fondamentale come quella di Bagnoli, quindi è un altro obiettivo che noi abbiamo e tutte le opere che saranno messe a sistema per realizzare questo intervento, sono tutte opere che la quasi totalità è funzionale a quell'aria, quindi serve per rilanciare quell'aria, quindi sono tutte opere che rimangono, che tra l'altro saranno necessarie perché noi abbiamo avuto due appuntamenti alla Coppa America, quindi non solo il 2012 ma anche il 2013, quindi c'era il doppio effetto positivo di avere due grandi eventi, lo stesso per due anni che porta risorse, immagine e turisti e dall'altro quello di poter tenere delle opere che poi saranno funzionali, rese funzionali tutti i giorni ai cittadini. Credo che il nostro tempo sia stato consumato tutto, Presidente, grazie alla prossima settimana, le domande come dicevo sono ancora tante, avrà modo di rispondere a tutti. Grazie a te Alfonso, grazie Alfonso Ruffo.